Prendi come fila! Mamma raga, avete visto che potenza? Questo è un Big Monster Truck in scala 1.8 della Thunder Tiger E' uno dei più grossi che ci sono in circolazione Pensate che ha 8 ammortizzatori e può saltare a più 2 metri di altezza E chi gli dà questa potenza per saltare? Questo motore Questo motore da 4,6 di cilindrata Abbinato a questo cambio a due velocità con retromarcia E una trasmissione a Cardani Lo rende una vera potenza Questo coso è in grado di arrampicarsi ovunque Grazie anche alle sue gomme Big Size Guardate quanto sono grosse e morbide Gli danno la possibilità di arrampicarsi ovunque Ora però, a parte le spiegazioni, andiamo a divertirci un pochino Allora per avviare il nostro Monster ci avvaliamo di questo trapanino E abbiamo messo la brugola davanti che è la stessa che c'è qui Allora per avviarlo bisogna mettere l'accendi candela per scaldare la candela E il trapanino dentro il suo avviamento Andiamo? Allora per avviare il nostro corso Montiamo una mega salita Così vi faccio vedere la potenza Allora per avviare il nostro corso Oh raga, se vi è piaciuto questo video Metti like e segui Ciao